Benvenuti all'Industria Fracchiolla SPI, un'azienda di Adelfia in provincia di Bari specializzata nella progettazione e nella costruzione di serbatoi in acciaio inox, macchine enologiche, impianti per il settore enologico, oleario, industria alimentare, industria chimica e industria farmaceutica. La nostra azienda è specializzata ormai da oltre 40 anni nella realizzazione di serbatoi e macchine in acciaio inox che vengono realizzati direttamente qui presso il nostro stabilimento oppure possono essere anche costruite sul posto da parte di saldatori che sono specializzati nella lavorazione dell'acciaio inox idoneo al contenimento di liquidi alimentari. A questo punto per conoscere quindi la nostra produzione siamo presenti anche sul nostro sito internet www.fracchiolla.it Grazie Grazie